...standard. Ed eccoci alla Coppa delle Coppe dove l'Inter trova per la prima volta il suo Jouarie Goliador a San Siro e per la prima volta Jouarie va a fare il giro della bandierina. È un rituale che ancora non si era compiuto. Può essere di buon auspicio, lo è per questa partita. Bergamaschi, Oriali, Palo, arriva Altobelli, 2-0 eliminato la Z67 e l'Inter supera il turno.